Per fuggire gli ergastoli Dopo essere fuggito in Francia, ho passato gli ultimi 15 anni in Brasile per fuggire gli ergastoli. Adesso mi hanno estradato in Italia. Se posso avere ancora qualche diritto, penso che il mio diritto sia fondato su questo. Io ho parlato per i perduti, per quelli che hanno sprecato la loro vita per un ideale politico. È con loro e per loro che io ho combattuto. Ma hai anche ucciso. L'ho fatto perché lo esigeva il mio ideale politico. No, l'hai fatto perché lo esigeva il tuo io, ancora molto grezzo. Quello che dici non è un incoraggiamento a fare il recluso modello. Gli agenti di custodia mi picchiano un giorno sì e un altro no. Invece l'incoraggiamento te lo dà proprio la tua sofferta detenzione, che ti serve per consumare il tuo io, ancora ipertrofico. Gli agenti di custodia mi picchiano un giorno sì e un giorno sì e un giorno sì. Grazie. 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 Grazie.